Si veste di nuovo la Fiera Antiquaria di Arezzo perlomeno da un punto di vista grafico. Per il 2016 è stata un'azienda retina a realizzare la nuova veste grafica e a produrre anche un attento studio di marketing sui visitatori. Il rilancio dunque di una delle più importanti manifestazioni a retine riparte da qui. Sono fermamente convinto che Arezzo ha tantissime attrazioni belle ma che facciamo fatica a comunicarle. Quindi il mondo non sa che qui ad Arezzo ci sono delle perle come appunto la Fiera Antiquaria. Quindi questo percorso è partito proprio da qui. Quindi è stata rivista tutta quella che è la parte di marketing e di comunicazione della Fiera Antiquaria. Lavoreremo molto sui numeri per capire se questi elementi portano un vantaggio reale oppure no sia alla Fiera stessa che alla città perché la domanda che ci facciamo sempre è quanto la Fiera Antiquaria ha la ricaduta sulla città, quant'è il PIL che riesce a spostare. Secondo noi molto e quindi per questo motivo ci investiamo e siamo partiti proprio da rivedere la parte cartacea e quindi la parte di comunicazione che poi dopo si ripercuoterà anche su quella digitale. Ho già attivato, a dire la verità, già da qualche settimana una collaborazione con una ditta locale proprio di Arezzo che ha trovato un sistema che utilizza le nuove tecnologie proprio per contare il numero di persone che passano. Quindi ci fornirà uno strumento utilissimo non solo per sapere quante persone proprio a livello numerico ma anche che percorsi fanno, quante volte ripassano negli stessi posti e questo per noi è importante anche per poi valutare il posizionamento dei banchi stessi quindi capire se ci sono delle zone che magari bloccano o limitano la fruizione della Fiera stessa quindi credo che nei prossimi giorni, non so se in questa Fiera o nella prossima, potremo già attivare un'esperimentazione. In termini di prospettiva...